Buongiorno a tutti, vecchi cuori bianconeri, è ufficiale, ora è uscito anche il comunicato, Di Gregorio è un portiere della Juventus, il portiere della Juventus, era il portiere titolare della Juve. Ieri è stato depositato il suo contratto, abbiamo finalmente sbloccato questa trattativa, io vedevo che tanti dicevano, eh sì, si parla di Di Gregorio, fatto, chiuso, definito, e poi non arriva. Ma ragazzi, ma un attimo di calma, giuntoli è lì con il suo pentolone, il suo mestolo che sta cercando di concludere le ultime ricette. Con calma arriviamo a fare assolutamente tutto. Quindi Di Gregorio, fatto, Alicia Lehmann, fatto, è ufficiale anche lei, Douglas Lewis è ufficiale, la settimana prossima dovrebbero esserci pure le visite mediche di Kefren Turam, quindi Waiting for Turam, tra l'altro ha fatto ridere che la Juventus abbia annunciato Alicia Lehmann con Annunz Alicia, barrato e poi con il tic sotto, quindi segno che comunque la Juve legge i commenti, i vari commenti che vengano lasciati sui social e gioca anche un pochettino su questo, gioca sui meme che vengono creati sul web. E attenzione perché c'è sempre quella pista lì legata a Sancho che diventa molto 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 importante da monitorare, tenere d'occhio perché quello sembra essere il nome di Giuntoli come sostituto ed erede di Federico Chiesa che è ufficialmente in vendita e sappiamo bene che quando escono queste notizie numerose a volte è proprio lo stesso club che dice ehi guardate con una campanella in mano è qui, è in vendita, lo stiamo vendendo, se lo volete potete parlarci, potete trattare e ora Chiesa dovrà cercare di capire quella che sarà la destinazione più gradita perlomeno. Abbiamo parlato di Roma, abbiamo parlato di Napoli anche se in questo momento in Italia sembra essere più Roma ma non è da sottovalutare anche qualche pista estera, chissà o magari un incastro proprio con lo United, Chiesa da loro è Sancho da noi e andiamo a risolvere tra virgolette delle situazioni scomode dal punto di vista contrattuale o di mancato gradimento al momento dalla parte tecnica, dalla parte societaria, dalla parte del calciatore, dell'ambiente eccetera eccetera e quindi si potrebbe, non lo so, la sto buttando lì, questa non è una notizia però chissà, non potrebbe essere un incastro. Invece la notizia è che la Juventus sta cercando di cedere altri pezzi pregiati o meno comunque all'interno della Rosa e c'è questo interessamento del Venezia e di Di Francesco per un giocatore della Juve che è molto interessante, secondo me che Hans Nicolussi caviglia. Un po' sulla falsariga di quello che è accaduto l'anno scorso proprio con Di Francesco che ha allenato sull'E sì, Caio sì, ma anche Barrenecea che in questo momento è un giocatore dell'Aston Villa, è andato a giocare in Premier League, è andato a giocare in Champions League, la Juventus l'ha ceduto a titolo definitivo all'interno della trattativa che ha portato Douglas Lewis alla Juventus, però attenzione è che Di Francesco potrebbe riprovarci con un altro prodotto del settore giovanile bianconero. Io qua voglio anche però fermarmi un secondo e fare una riflessione, perché la Juventus valuta il giocatore tra i 6 e gli 8 milioni di euro, quindi per quella cifra Hans potrebbe lasciare la Juve, però noi siamo sempre qui e continuiamo a dire e questo può partire, questo può partire, questo può partire, va a finire che poi ci ritroviamo senza centrocampisti, perché va bene, Barrenecea è uscito, l'anno scorso non dimentichiamo che Iling ha fatto qualche partita da centrocampista, Pogba non può giocare, McKennie è in un angolino in punizione con il cappello da suo maro in testa come si faceva una volta nelle scuole, Miretti, un altro di quelli che, boh, parte, non parte, va in prestito, la Juve lo vede come vice-Copmeiners, che è un'altra delle trattative che stiamo cuocendo a fuoco molto lento, chi altri? Rabiot che non rinnovando, almeno Romeo Agresti dice attenzione a non dare per scontato questa roba, però io sinceramente trovo bizzarro il fatto che possa rinnovare Rabiot dopo l'arrivo di Turan, però se la Juve ha questi piani vedremo dove vuole andare a parare, però se iniziamo a cedere tutti i centrocampisti poi bisognerà avere anche delle riserve, no? Poi è ovvio che la Juventus in questo momento ha in testa di giocare con una sorta di 4-2-3-1, 4-1-4-1, quindi tra i due e i tre centrocampisti, Koppmeiners, Turan ed Aglas Luisa sono i tre nuovi arrivati che si candidano anche a essere titolari, Locatelli e Fagioli e siamo a 5, ma se vogliamo Miretti come vice-Coppmeiners, 6, forse 6 sono un po' pochi per tutte queste competizioni, almeno che non venga aggiunto un componente della next gen per completare l'organico, però io lo so, uno tra Nicolussi e Barnecea sinceramente l'avrei tenuto all'interno della Rosa da Juventus, anche per una questione di liste, dato che sono comunque giocatori del settore giovanile, del vivaio, quindi non occupano spazio anche nelle liste UEFA, li avrei tenuti, poi vediamo perché se la Juve ha necessità di cedere e deve intascarsi qualche soldino, capisco che possa lasciar partire questi giocatori, quindi c'è questo sondaggio forte del Venezia, era stato sondato anche dal Parma e da altre squadre, Nicolussi Caviglia, chissà che non possa essere il nuovo Barrenecea nella testa di Di Francesco, e poi vedremo quali altri componenti della Rosa, della Juventus o del settore giovanile della Juve Di Francesco vorrà cercare di portarsi a casa quest'anno, tra l'altro io abbiamo parlato di Sule, io quando parlo di Di Francesco non posso fare altro che pensare a Berardi, che è stato lanciato nel calcio ad alti livelli proprio a Di Francesco, e direi che ha fatto un ottimo lavoro per quello che è il livello del Sassuolo, della Nazionale, Berardi è un ottimo calciatore per quanto mi riguarda, poi secondo me non era un calciatore di livello Juve negli ultimi anni, e non valeva la spesa, però parlare di Berardi in toni negativi secondo me è eccessivo, perché ha fatto veramente la storia di una società come il Sassuolo in Serie A, sempre fatto non bene, benissimo, e ve lo dico anche da fantallenatore affezionato di Berardi, che quest'anno mi ha tradito, ma penso che sia stato più triste lui di me, con gli infortuni della retrocessione eccetera eccetera eccetera, però Di Francesco ha messo mano su Sule, e io ripeto, prima di cedere Sule, se stiamo già cedendo chiesa, ci penserei tante tante volte, però hanno fatto discutere un pochettino delle dichiarazioni di Bremer riportate dal ritiro della Nazionale Brasiliana, e cioè, dopo la Coppa America, adesso sono completamente concentrato su questo, andrò a discutere insieme ai miei rappresentanti sull'interessamento di alcune squadre importanti che hanno espresso gradimento nei miei confronti. Ecco, questo subito si è tramutato in titoloni, le prime pagine dei giornali, e le parole di Bremer che fanno in furere la Juve, che preoccupa la Juve, e roba del genere. Vi voglio riportare questa cosa qui, su Twitter, tre ore fa, quindi questa mattina, intorno alle otto, è stato riportato una sorta di tagliacucci di tutta l'intervista che era stata fatta su Bremer, dove Bremer dice che stiamo aiutando la Juventus a tornare il protagonista, a lottare per grandi cose, spero che la prossima stagione sarà di grande gioia per tutti i giocatori e tifosi, Tiago Motta sarà ben accolto dallo spogliatoio, professionista che ha fatto un ottimo lavoro, ottima scelta del club, e che lui farà del suo meglio per aiutarlo ad adattarsi il più presto possibile. E lo stesso Bremer su Twitter, su X, chiamatelo come volete, alle otto e trentuno di sabato, sei luglio, quindi questa mattina, ha commentato con un cuore bianco e un cuore nero. Cosa significa questo? Che Bremer non andrà via dalla Juve? No, perché ormai è il tormentone di questa mia estate, ragazzi, diventerò noioso, ma ve lo devo dire, e non posso essere ipocrita, e proprio oggi cambiare idea, ma i messaggi sui social da parte dei calciatori contano zero. Zero. Non contano nulla. Possono anche essere magari il pensiero onesto del calciatore, però poi dietro al calciatore Bremer ha citato dei rappresentanti, e quindi ci sono più enti dietro un calciatore che potrebbero volerlo spostare, o magari ci sono proprio dei club in prima battuta, ma non significa nemmeno che Bremer andrà via. Anzi, io sono convinto che Bremer stia bene a Torino, perché prima della Juve ha giocato anche nel Toro, quindi da tanti anni che lì, la sua famiglia da tanti anni che lì, si trova decisamente bene. Poi, il fatto che Bremer possa andare via secondo me invece è un'opportunità, anzi, è una possibilità anche abbastanza concreta, ma non ve lo dico oggi perché esce questa notizia sui giornali, questa intervista di Bremer dal Brasile che dice che ragionerà, no, assolutamente no, ne parlano le mosse della Juventus. Cioè, questo è proprio chiaro, questo è palese, la palissiano, questa parola che anche a pronunciarla, a sentirla, suona tanto bene. La palissiana. Bremer ha rinnovato un contratto riducendo l'ingaggio qualche mese fa, ma inserendo una clausola recessoria a partire dall'estate 2025, una clausola intorno ai 60 milioni di euro. 60 milioni di euro che permetterebbero alla Juventus di rientrare completamente della spesa, di aggiungere 10 milioni e di fare una plusvalenza vera, grande, concreta, di anche ridurre il monte ingaggio ovviamente dell'ingaggio di Bremer che era un ingaggio pesante. Cosa significa questo? Che nella testa della Juve c'è la volontà e nella testa di Bremer c'è la possibilità di separare le strade a partire dall'anno prossimo. Non solo, c'è un accordo tra le parti che non è magari scritto sul contratto ma è un accordo tra uomini in cui se dovesse arrivare già in questa estate la stessa offerta da parte di un club ci si siede a tavolino se Bremer è disposto ad andare la Juve non si intrometterà di fronte a questa roba qui e lascerà andare il calciatore. Quindi questa è un po' l'idea della Juventus su Bremer. Io credo fortemente che la volontà di prendere Calafiori in questa sessione di mercato fosse collegata a questa roba qui della serie. Faccio giocare insieme Calafiori e Bremer una stagione perché? Perché Bremer ha già giocato due anni con la maglia della Juve quindi ha già vissuto un grande club come la Juve Calafiori invece è un ottimo prospetto e al suo fianco non può fare altro che migliorare imparare un po' se vogliamo come è stato Bonucci all'ombra di Chiellini o all'ombra di Barzagli o all'ombra di Barzagli e Chiellini quel tipo di ragionamento lì dal punto di vista dei difensori ovviamente che nella mia testa è anche un pochettino quello che mi auguravo per il reparto portieri e cioè arriva di Gregorio ma c'è anche Chiesny e si alternano su questa roba qui poi io capisco che la Juve quest'anno debba fare dei ragionamenti sull'età media sulle spese legate all'ingaggio ci mancherebbe altro è giustissimo la Juventus vuole essere una squadra più sostenibile a livello economico però io non dimenticherei nemmeno la parte sportiva che è quello che vi sto dicendo anche su Sule prendiamo Sancho benissimo ma non cediamo Sule così come non crediamo pretendiamo di buttare Sule nella mischia la prima stagione davvero la titolare a Juve è che deve essere decisivo no non funziona così non funziona così deve avere questa possibilità di crescere di fianco a questi giocatori ma di giocare le partite di diventare già un giocatore importante nelle rotazioni e spesso le rotazioni perché quest'anno avremo tante partite quindi non il giocatore che ti fa gli ultimi dieci minuti no anzi perché maggior ragione secondo me Sule per come interpreta Tiago Motta l'esterno di destra e l'ha fatto fare a Orsolini quindi un giocatore mancino che rientra va alla conclusione a giro ma che non è nemmeno disinteressato alla fase difensiva perché Tiago Motta a Bologna ha difeso a blocco basso e quindi Sule dovrebbe fare anche quella roba lì secondo me sulle per caratteristiche ideale per Tiago Motta sulla destra poi magari mi sbaglierò però l'idea deve essere questa quindi siccome la Juve aveva in testa di fare calafiori e di tenere Bremer un anno e poi vendere Bremer ora vedremo se questa roba la farà con Kivior o con qualcun altro poi magari Bremer andrà via davvero in questa sessione di mercato perché se arriva un'offerta da 60 milioni di euro magari la Juve dice senti sai che cosa magari l'anno prossimo non mi arriva e io ho bisogno di questa roba qui e ci mettiamo a posto io lo so che tanti sono preoccupati sulla difesa della serie è saltato calafiori ecco e adesso che cosa facciamo però la Juve si sta organizzando preparando su altre robe per il momento sta ragionando sulla qualità del centrocampo sulla qualità degli esterni su queste cose questa è la priorità della Juve oggi alla Juve mancano dei terzini questo è fuori discussione alla Juve mancano dei difensori questo è fuori discussione non dimentichiamoci però che l'anno scorso ai nastri di partenza il Bologna e Tiago Motta che parte con Buchema Lukumi Calafiori Posh questa gente qui che l'anno ripeto l'anno scorso ai nastri di partenza perché citarli oggi dice ma sono una squadra che arrivata in Champions sì ma l'anno scorso a luglio quando noi pensavamo alla difesa 3 Bremer Gatti Danilo non potevi pensare allo stesso livello di questi del Bologna hanno preso il nostro stesso numero di gol cioè la fase difensiva e il livello di difensore sono due concetti differenti poi è ovvio che sei dei difensori più forti e fai una fase difensiva di livello tanto meglio però non mi preoccuperei tanto su questa roba qui perché il più grande acquisto che abbiamo fatto quest'anno è Tiago Motta fuori discussione l'anno scorso il più grande acquisto giuntoli quest'anno Tiago Motta noi dobbiamo iniziare a distaccarci e ve lo dico con la morte nel cuore perché è la cosa più difficile da fare per me che ho un approccio molto romantico al calcio ma dobbiamo iniziare a distaccarci dall'idea dei calciatori traduco il fatto che Bremer possa andare via non deve essere un problema e io amo Bremer adoro Bremer è stato uno dei migliori sia l'anno scorso che l'anno prima il giocatore ci ha salvato intanto così ma non deve essere un problema dico Bremer perché stiamo parlando di Bremer ma vale per tutti lo stesso Chiesa che è un altro che io adoro ma quest'anno va via te ne fai una ragione te ne devi fare una ragione perché i calciatori non sono più al primo posto non sono più al primo piano l'idea di Giuntoli è questo è forte sì assolutamente se va via ce ne sarà un altro forte uguale forte meno più forte meno forte da rendere più forte ce ne sarà un altro andiamo lo troviamo lo compriamo lo valorizziamo lo facciamo giocare e lo portiamo a quel livello lì questa è l'idea di oggi della Juventus questa qui non focalizzarsi solo sul nome del giocatore che è forte X al momento timestamp forte così no ma ci lavoriamo per farlo arrivare lì perché noi abbiamo comprato il sistema e Tiago Motta deve metterci mano questa è l'idea della Juventus che sta nascendo ed è in controtendenza rispetto a quello che abbiamo visto nelle ultime tre stagioni e quindi per forza di cose siamo stati abituati a ragionare ok Allegri è un tipo di allenatore che fa queste cose qui gli dirige a prendere pronti siamo stati abituati quante volte ce la siamo detta questa cosa perché è vero oggettivamente anche questa è la palissiana se vogliamo ora dobbiamo sforzarci noi in primis per comprendere e capire quelli che sono i movimenti di mercato della Juventus quello che stanno costruendo cucinando giunto di Tiago Motta che oggi si ragiona in una maniera è differente ed è più difficile perché è una maniera più difficile ma sul lungo periodo è quello che ti dà più risultati positivi e secondo me anche più soddisfazioni per loro che ci lavorano e speriamo anche per noi che dobbiamo festeggiare qualche trionfo qualche trofeo qualche traguardo ragazzi questo è tutto per oggi fatemi sapere la vostra questo è tutto nei commenti perché sono tanti ragionamenti secondo me che sembrano banali ma è sempre meglio tirarli fuori per dirci proprio tutte le cose in faccia chiare limpide e parola del video la palissiane ciao